Compagni lavoratori, finalmente siamo riusciti a scoprire perché, vabbè lasciamo perdere, adesso non è proselitismo di politica di alcun genere che questo canale rimane apolitico, ma è importante conoscere la storia in tutti i suoi aspetti. Quindi, perché la bandiera rossa dei comunisti era rossa? Da dove deriva tutto il fattaccio? Fondamentalmente, fin dall'età romana e passando per il Medioevo, la bandiera rossa è sempre stata associata al colore del sangue e il colore del sangue, appunto, il rosso, voleva intimorire il nemico e simboleggiava nessuna pietà per lo stesso medesimo. Fino a questo momento, fino arrivando al XVII secolo, quando la bandiera venne adottata anche dai pirati, appunto, si insava il Jolly Roger per dichiarare nessuna resa in quanto se la nave avversaria non si fosse arresa all'abordaggio e qui, ragazzi, vi mandiamo tutti quanti in una bella giacca di mogano. Successivamente si passò dal XVII secolo alla rivoluzione francese nel 1789 con la nazionale costituente e, appunto, adottò la bandiera rossa e programmò la legge marziale. Nel 1797, quando i Marinelli e la Royal Navy si ammutinarono sulla nord alla foccia del Tamigi, sarò una bandiera rossa su diverse delle loro navi. Per poi arrivare, appunto, a un'altra immagine che riguarda il Murtry Tidelfield nel 1832 in Galles e fu simbolo di grandi scontri tra polizia e minatori. Questa bandiera rossa, invece, la conoscete tutti se vivete in riviera o giù al mare non inneggia al comunismo ma statevi attenti perché nessun quartiere verrà dato a quelli che vogliono comunque fare il bagno anche con le onde grandi. Con questo piccolo e non scontato escurso storico io vi saluto e alla prossima.